Senza Bavaglio ritorna sull'argomento aeroporto Arlotta di Grottaglie e per quanto riguarda l'Arlotta di Grottaglie con riferimento alla destinazione voli civili, voli passeggeri, non c'è e non ci sarà nulla da fare. Siamo condannati noi tarantini alla destinazione industriale dell'Arlotta. Non bastava quello che era già accaduto in passato, ora arriva un altro scienziato, il nuovo presidente di ADP Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, insediatosi ai noi il 13 marzo. E' onesti e molto ma molto lapidario, afferma potenzieremo i voli da Bari e Brindisi, Grottaglie sarà un polo industriale. Dopo Acerno, l'ex presidente, il quale ha boicottato di fatto in tutti i modi possibili e immaginabili la destinazione, lo sbocco eventuale, voli passeggeri per l'Arlotta, arriva un altro, appunto Onesti e mette subito le cose in chiaro, dice Tarantini voi siete un fanalino di coda, anzi, si compiace per la crescita relativamente al numero di traffico, ai dati sul traffico relativi a Bari e Brindisi. Infatti, Onesti ha elogiato, ha sottolineato che i dati di traffico ottenuti negli scali pugliesi durante la gestione a Cerno confermano l'efficacia del metodo adottato, visto che nel 2016 sono transitati quasi 7 milioni di passeggeri, ovviamente da Bari e da Brindisi. Taranto non deve esistere, Taranto deve essere cancellata dalla cartina geografica. E poi si dà il contentino per Taranto, per l'Arlotta, si dice, vedete che non esistono solo i voli passeggeri, ma esiste altro, esiste una destinazione che potremmo definire non aviation, cioè, dice a Cerno, gli aeroporti sono piattaforme che possono aggregare, attrarre, essere luoghi di incontro e confronto per altri tipi di attività, appunto quella industriale, perché ovviamente a Taranto non si deve fare turismo, Taranto deve rimanere ghettizzata, marginalizzata e quindi si dice, non vi preoccupate Tarantini, all'aeroporto Arlotta vi faremo altro, vi faremo fare altro. Ci saranno i droni, ci sarà l'aerospazio, ci saranno tante di quelle cose, giusto per dare un contentino, perché così il territorio crescerà. E' davvero un fatto raccapricciante. Come altrettanto raccapricciante è il comportamento di Loredana Capone, assessore regionale al turismo e allo sviluppo economico, parla della ricerca di nuovi partner per quanto riguarda gli aeroporti e dice che siamo in una fase esplorativa per trovare i migliori partner sul mercato, però di Taranto nulla. Beh, Loredana Capone che di fatto è il presidente facente funzione della regione Puglia, visto che il signor Emiliano è in tutt'altre faccende affaccendato pensando alla segreteria nazionale del PD, ha abbandonato la regione Puglia e ha dato mandato a Loredana Capone che ben si guarda dal pensare al territorio ionico. Questo è il quadro dell'aeroporto Arlotta. Si considerino ancora altri aspetti. Mi domando, dice bene un mio amico di Milano il quale dice a cosa serve la regione Puglia per Taranto? A nulla. Perché la regione Puglia pensa a Taranto solo per l'industria e per i rifiuti. L'industria. Quanto si può industrializzare va bene, tanto a pagare il Tarantino anche per quanto riguarda la destinazione cargo e non solo dell'Arlotta e i rifiuti Taranto che con le discariche, Taranto e l'area ionica in generale, rappresenta l'immondezzaio della Puglia. Come vedete, forse è meglio andarsene dalla regione Puglia, meglio andarsene in Basilicata, diventare la terza provincia della Basilicata atteso che la regione Puglia ci tratta a pesci in faccia. Quanto poi alla scienza di aeroporti di Puglia, c'è da dire che noi, parlo in generale della situazione aeroportuale pugliese, per l'incapacità di aeroporti di Puglia e della regione Puglia, stiamo per perdere i molti voli low cost della Ryanair. Sapete che la Ryanair pratica dei prezzi bassissimi, a quattro soldi si può volare in tutta Europa. Bene, stiamo rompendo, stanno rompendo con Ryanair, la quale Ryanair dirotterà la maggior parte dei voli su Napoli, Capodichino e così il territorio pugliese avrà pochissimi voli diretti, o meglio un numero ancora più ridotto di voli diretti, a tutto guadagno, a tutto beneficio di Napoli. Questi sono gli scienziati che si occupano purtroppo di aeroporti in generale. Ma, ripeto, l'aspetto più raccapricciante è quello dell'arlotta. Noi non abbiamo speranze. Domanda, ma i consiglieri regionali dove cavolo stanno? I parlamentari ionici dove cavolo stanno? Ma è possibile che il territorio ionico deve essere anche sotto l'aspetto dell'arlotta sbeffeggiato, offeso, umiliato? Se così sono le cose, forse è proprio inutile andare a votare, visto che veniamo trattati in questo modo. O ci sono i consiglieri regionali e i parlamentari o non ci sono, l'effetto è sempre quello che Taranto viene calpestata, presa a calci in culo, scusatemi la volgarità, senza bavaglio e anche e soprattutto questo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre!